Conf Commercio chiede azioni straordinarie per la sicurezza a Montecatini Terme. In una nota l'Associazione sottolinea di intervenire alcune settimane di distanza dagli ultimi episodi che hanno visto la città protagonista di risse notturne spociate in ferimenti accoltellate per condividere riflessioni che non fossero il frutto della reazione emotiva ma di un'analisi attenta della situazione reale. E la situazione per Conf Commercio è chiara. Montecatini necessita di ulteriori interventi sul fronte sicurezza e con questa per contrastare l'abusivismo e rendere la città vivibile ai cittadini e accogliente per i turisti. Alcune azioni sono già state intraprese, sostiene l'Associazione, come esempio l'introduzione di un impianto di videosorveglianza ma rimane ancora molto da fare per adeguare Montecatini agli standard di una città a vocazione turistica. A riguardo Conf Commercio cita non solo episodi di violenza avvenuti in pieno centro ma anche fenomeni di abusivismo che si verificano nelle vicinanze di negozi, bar e parcheggi. Dall'essere una situazione che si verificava sporadicamente, la stima è diventata ormai diffusa e continuativa, tanto da risultare non più accettabile. Oltre al danno economico, la presenza di venditori abusivi nei pressi di pubblici esercizi e parcheggi rappresenta un deterrente alla sosta dei visitatori, spesso infastiditi dall'insistenza con cui vengono effettuate le richieste, con danno all'immagine e al decoro della città. È terminata, conclude Conf Commercio, l'epoca delle iniziative di contenimento di questi fenomeni ed è venuto il momento di intraprendere azioni forti e decise di contrasto che consentano di invertire la tendenza e segnare una svolta. E di questo si chiede sia motore l'amministrazione comunale.